ok ragazzi questa volta chef pepper jack non ci scapperà il suo dirigibile mi sembra ben difeso però voglio dirla tutta è anche piuttosto bello allora skylander quando ti do il segnale tu vai alla torretta e cominci subito a sparare ok nel caso non fosse il piano e quello era il segnale